Probabilmente la differenza tra ciabatte prodotte in diversi paesi è la forma del piede dell'operaio atto a fare da stampo. Seppur consapevole di ciò, visto che gli amici indiani su TikTok nel migliore dei casi le usano come scarpe antinfortunistiche, considerato il prezzo di circa 5 euro e la qualità ad occhio ed al tatto accettabili, ho proceduto all'acquisto. Apprezzata la leggerezza, la freschezza e la consistenza semirigida, dopo 24 ore i primi segni di cedimento si sono palesati. Constatato che tornare all'Eurospin per chiedere il reso mi sarebbe costato in benzina più della colla a caldo per ripararle, ho proceduto al rattoppo. Sfortunatamente dopo una settimana ho ceduto anche l'altro lato della fascia, che ovviamente ho provveduto ad incollare come si deve, e per ora non ho avuto più segni di cedimento. Se le si considerano come dei semi lavorati, sono ottime. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, il mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.